Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming. In questo nuovo e breve video di gameplay su Mineeater voglio mostrarvi un easter egg davvero simpatico, diciamo incentrato su Demolition Man. Se avete visto il film, sicuramente adesso, quando raggiungerò l'ester egg, riconoscerete anche cosa si cela in questo punto. Si trova a Sabbie e Floride, qui praticamente vicino al rifugio, quindi non potete sbagliarvi. Una volta che siete giunti sul posto, come potete vedere, ecco l'ester egg, praticamente le tre conchigliette. Non so se vi ricordate la scena in Demolition Man dove Stallone deve andare al bagno e gli dicono che non c'è più la carta igienica ma ci sono tre conchigliette. Ecco, questo è l'ester egg di Demolition Man.